Poracci, per la prima volta ci troviamo in una situazione dove le risposte giuste sono tutte sbagliate. Si tratta di Resident Evil o di Dark Souls? Chi siamo, soprattutto noi, per mettere bocca su una mod amatoriale? Nessuno! Quindi, bravi tutti, risposte al top come sempre, ma... Shinjeki no Poro, come è conosciuto qua in Italia, l'attacco dei poracci, è una risposta imbattibile. Ma bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, anche di quelli che costano meno di 80€. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, piena di notizie al volo e di voli che faranno notizia. Dunque, banda alle ciance, ma prima di iniziare, come al solito, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di Internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con un aggiornamento di una delle notizie principali dei giorni scorsi, perché Assassin's Creed Mirage esiste. È stato appena confermato da Ubisoft. In mattinata, infatti, è stato leakato il primo artwork del titolo, il publisher ha prontamente oscurato le immagini rivendicandone il copyright sul materiale, ma ormai il danno era stato fatto. Quindi Ubisoft ha confermato l'esistenza di Assassin's Creed Mirage e ha promesso, come già avevamo ipotizzato, che il titolo verrà svelato formalmente il prossimo 10 settembre durante l'Ubisoft 4 World. Sony, invece, ha ufficializzato quella che sarà la line-up del PlayStation Plus per il mese di settembre e c'è tanto di cui parlare, perché tutti e tre i tier riceveranno degli aggiornamenti. L'Essential vedrà l'arrivo di Need for Speed Heat, Granblue Fantasy Versus e Toem, un'avventura fotografica indie con stile da vendere che ho sempre desiderato provare. L'inclusione la trovo perfetta. Nel tier intermedio, invece, vediamo l'arrivo di parecchi nomi, tra cui vale assolutamente la pena citare Deathloop, Watch Dogs 2, Scott Pilgrim e Rayman Legends, platform spettacolare. Mentre l'offerta retro, per me, è ancora quella più deludente, perché si potrebbe fare molto, molto di più. Ottima l'aggiunta della Sly Collection e di ladri nel tempo, ma trattandosi di giochi PS3, saranno disponibili solo in cloud. Il resto, purtroppo, sono nomi sicuramente di minore impatto. Comunque direi che si tratta di un mese bello corposo, non trovate? Intanto però Microsoft risponde con una bomba atomica che mette in luce la disparità dell'offerta tra il Plus e il Game Pass. Phil Spencer, sul sito ufficiale di Microsoft, ha infatti comunicato quali sono le intenzioni dell'azienda una volta che l'acquisto di Activision Blizzard verrà finalizzato. E c'è in particolare un passaggio che sta suscitando parecchio scalpore e voglio citarvelo testualmente. Abbiamo intenzione di rendere la molto amata libreria di titoli Activision Blizzard, che include Overwatch, Diablo e Call of Duty, disponibile nel Game Pass, con l'intenzione di far crescere queste community. Non si parla di esclusività, fate molta attenzione, ma come passaggio direi che è abbastanza epocale. Non credo ci sia da aggiungere altro. Non è tutto rose e fiori in casa Microsoft però, perché tramite un video aggiornamento di 30 minuti, i fan di Halo Infinite sono stati messi di fronte alla triste realtà dello stato del titolo, che ormai, a quasi un anno dal suo lancio, continua a essere incompleto. La modalità Forge, una delle feature più attese della community online e anche la campagna in co-op, prevista inizialmente al lancio del titolo, sarebbero dovute uscire quest'agosto, ma sono slittate a novembre e la terza stagione contenutistica di Infinite, Ecos Within, è slittata al 2023. Ma ancora più grave è che il multiplayer split screen è stato cancellato, il tutto per focalizzare le attenzioni del team sul supporto continuo al lato live service del titolo. A questo punto però è chiaro, purtroppo, quanto 343 Industries non sia stato in grado di gestire un'operazione così complessa e fondamentale per l'ecosistema Xbox, un'occasione sprecata. Invece si mette molto bene per Sonic Frontiers, o almeno questo è quello che vuole farci credere Sega. Il publisher continua a credere ciecamente nel progetto, Takashi Izuka ha addirittura dichiarato che il 2022 sarà l'anno più grande di sempre per Sonic, e intanto è stato pubblicato un video con le reazioni del pubblico entusiastiche, totalmente spontanee, alla demo del gioco della Gamescom 2022. Un video un pochino cringe e io non so più che dire, comunque continuo a essere incomprensibilmente ottimista per questo nuovo Sonic in 3D, e voi? Ma bene, passiamo al motivo per cui tutti quanti siete qui, il Direct di settembre. Ne abbiamo già parlato nello shorts di prima, ma adesso vorrei dedicare uno spazio un po' più corposo a quello che sembra essere lo scenario più credibile. Sia per i nomi che sono coinvolti in questo rumor, ma anche per la verosimiglianza di quello che viene promesso. Ancora una volta è Jeff Grabba ad animare le speranze dell'utenza Nintendo. Durante il suo ultimo podcast ha infatti ribadito importanti informazioni riguardanti il Direct di settembre, mantenendo però sempre una certa cautela nell'utilizzo delle parole. Per riassumere, Grabba è certo che ci sarà il Direct, solo ancora non può mettere la mano sul fuoco se si tratterà di un Mini oppure di un Direct a tutto tondo. Nella presentazione dovrebbe esserci un discreto supporto da parte delle terze parti, una base indispensabile per tirare fuori almeno un Mini, ma Grabba ribadisce anche di essere stato informato che Nintendo è pronta a svelare i porting in HD, dei porting in HD di Twilight Princess e Wind Waker. Uno scenario per lui già di per sé credibile, perché si tratterebbe del perfetto apripista per Breath of the Wild 2 nel 2023, ma di cui, ripete, ha ricevuto conferma da parte di una fonte affidabile. Si tratterà quindi di un Direct fortemente incentrato su Zelda, ma Grabb non esclude la possibilità di vedere sorprese del calibro di Metroid Prime Remaster, che a onor del vero però ormai ne parla da anni, e si tratta di nomi che già così basterebbero per tirare fuori uno dei Direct più clamorosi degli ultimi tempi, anche se poi a conti fatti si tratterebbe di Remaster. Vabbè, comunque, cosa hanno in comune Wind Waker, Twilight Princess e Metroid Prime? Esatto, il Gamecube. E forse è proprio questo quello a cui si riferiva Robertson su Twitter, ne abbiamo parlato prima nello Shorts. Ma non è finita qua, per Grabb lo show avrà un luogo nella settimana del 12 settembre, e anche qui lo scenario è abbastanza credibile. Una data che si posiziona prima del Tokyo Game Show e dopo l'uscita di Splatoon 3. Quindi, i rumor si fanno sempre più insistenti, gli insider concordano tutti, e il Direct di settembre sembra sempre più una realtà. Ma trattandosi di Nintendo, teniamoci pronti per un bel partner showcase a ottobre. Olè! Ah, e domani faremo un bel sondagione per vedere cosa ne pensate su questo Direct, ma intanto vi aspetto nei commenti per sapere se la visione di Grabb vi convince o meno. E chiudiamo riprendendo un'altra notizia di cui abbiamo parlato ieri o comunque negli ultimi giorni, ovvero l'intenzione da parte di Konami di ripescare una serie amata in tutto il mondo. Attenzione perché la situazione inizia a farsi molto interessante. Ieri si parlava di un probabile annuncio minore, niente che avrebbe sconvolto i fan di vecchia data, ma oggi Dusk Golem, insider con un bello storico di leak niente male, ha sganciato la bomba. A quanto pare Konami avrebbe intenzione di fare una remaster dei primi tre storici Metal Gear Solid, che ricordiamo in passato hanno già ricevuto il trattamento in HD, ma purtroppo ormai anche queste versioni sono inservibili. Dallo scorso novembre i Metal Gear Solid sono anche spariti dagli store digitali a causa di alcuni problemi di copyright, e nonostante la situazione non si sia ancora risolta, Konami ha promesso che prima o poi i titoli torneranno. E Dusk Golem è sicuro al 100% di questa informazione, anzi aggiunge che i piani sono quelli di rilasciare singolarmente le tre remaster, e poi di proporle anche all'interno di una collezione speciale, che includerà come bonus i primi due capitoli di Metal Gear usciti su MSX. Inoltre questo significherebbe vedere il potenziale ritorno della serie di Metal Gear Solid su una console Nintendo dopo l'esperimento mai più replicato del remake di Metal Gear Solid 1, ovvero Twin Snakes. Capolavoro. Vi dirò, l'hype è abbastanza alle stelle per una collection del genere, ma la storia recente ci ha insegnato che non è affatto semplice rimasterizzare in modo degno i capolavori del passato, soprattutto se si tratta di titoli in tre dimensioni. Quindi speriamo che questi rumor siano veri, ma speriamo anche che Konami metta tutta la cura necessaria che ci si aspetta nel momento in cui si decide di mettere mano a tre capolavori immensi della storia del videogioco. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a non so quando perché non so se domani riuscirò a pubblicare un video, eventualmente proverò a fare qualcosa di speciale qua sul canale. Voi in ogni caso stasera sapete cosa fare, riposatevi, anche domani mattina riposatevi, fate i bravi sempre, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Metal, Michele Solid, ciao! Ehi ehi ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Con il non fare cow 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 crown.